Va in archivio la ventiquattresima edizione della Corri Nuoro, la gara podistica ideata e promossa dal Circolo Amatori che sabato ha visto al Via 500 partecipanti appartenenti a diverse categorie. Un fiume colorato che partendo da Piazza Italia ha invaso le vie del centro lungo un tracciato di quattro giri da 2.900 metri per un totale di 11.600. Un percorso probante che presenta numerosi cambi di passo e che soprattutto consente agli atleti di attraversare il cuore del capologo barbaricino. Il corso Garibaldi, la via Maiore, un momento della corsa che spesso ha fatto la differenza scremando il gruppo e consentendo lo strappo decisivo. Impeccabile come sempre l'organizzazione della Maturi Nuoro in collaborazione con l'ICS e il patrocinio del Comune. Tutto è filato liscio sotto la regia del presidente Angelo Serra che ha coordinato le decine di soci che da tanti anni promuovono lo sport in città e provincia. I nuresi hanno risposto assiepandosi lungo il percorso e incitando i tanti podisti che da tutta la Sardegna non sono voluti mancare alla Corri Nuoro, una classica delle gare di primavera che mantiene intatto il suo fascino a cinque illustri dalla sua prima storica edizione. Per la cronaca sul gradino più alto del podio in campo maschile è salito Tiziano Melia dell'Atletica Buduzo, a seguire Angelo Cano della Podistica Sassari, al terzo posto Gianluca Salaris della Macoment Runners. Tra le donne in medaglia d'oro a Daniela Perino dell'Alghero Marathon, al secondo posto Leonardo Cantara dell'Academy Olbia, sul terzo gradino del podio Patrizia Mureddu dell'Atletica Luras.